buongiorno a tutti amici di visione tv ben ritrovati oggi partiamo parlando del nuovo numero di visione un altro sguardo sul mondo parole avvelenate un numero del nostro mensile dedicato al politicamente corretto all'ideologia uo che alla cancel culture lo facciamo insieme a roberto quaglia buongiorno roberto buongiorno enrica un saluto a tutti quelli che ci seguono perché con roberto quaglia perché oltre che essere un nostro amico e oltre a collaborare con noi e soprattutto è una firma fissa del nostro mensile proprio nell'ultimo numero ha curato un articolo sagaci ironico e tagliente e sulla cancel culture che finirà per cancellare se stessa ma non sarà un bello spettacolo e partiamo proprio da qua perché in origine e in qualche modo lo anticipi anche tu nel tuo articolo le intenzioni del politicamente corretto ma anche del walk erano positive inclusive ma poi si è degenerato il tutto in una forma di delirio fanatismo ma anche di vera e propria psicosi di massa e in un passaggio del tuo contributo per il numero di marzo scrivi la sacralizzazione del momento presente e anche alla base della logica che dai dettami del politicamente corretto porta fatalmente al fenomeno della cancel culture in che modo passato e futuro minacciano la sacralità di questo presente assolutizzato che poi troviamo anche questo presente assolutizzato per esempio 1984 di orwell come avviene questa dinamica appunto il fulcro veramente questa sacralizzazione del presente probabilmente il motivo per cui avviene misterioso ma può darsi che abbia a fare con l'insostenibilità della complessità del mondo perché chiaramente il mondo sta diventando sempre più complesso diventa insostenibile allora per semplificarlo ci si concentra sul momento presente e questo è un fenomeno che si attua spontaneamente con l'uso dei social media che qui siamo abituati che se ci pensate differiscono molto per esempio in questa premessa serve a capire la struttura appunto di quello che è successo dai per esempio non so i forum che c'erano anche solo vent'anni fa su su internet in passato i forum erano delle aree di discussione dove rimaneva una traccia storica di tutto quello che veniva detto in ordine cronologico e gerarchico quindi poteva venire studiata una discussione in passata non si esauriva nel momento in cui si compiva questo era internet di vent'anni fa oggi internet ai social media dove che consistono in uno scorro in uno in uno schermo che scorre costantemente e una volta che appunto è passato è scomparso e diventa sempre più difficile da recuperare le discussioni provate a ricostruire una discussione che avete fatto in un social non ci riuscire non ci riuscirete riuscite solo tornare indietro di due o tre battute questo questo questa usanza questa consuetudine alla lunga porta proprio la mente umana concentrarsi sul momento presente e questo poi ha dei riflessi pesantissimi anche a livello di vita politica di un paese perché i politici sono in grado di dire una cosa e il contrario della stessa cosa senza che nessuno si inalberi questo perché la dichiarazione contraddittoria è in un passato che non è più nel nel faro delle nostre coscienze vivendo tutti nel presente ecco quindi vivendo nel presente poi lo si sacralizza e nel momento in cui lo sacralizza diventa diventa un peccato mortale metterne in dubbio l'assolutezza no che quello che si fa ogni qualvolta si guardasse per esempio ad altri modi di vivere e pensare in altri luoghi o nel nostro stesso passato seguendo un po la lezione di orwell 1984 questo eterno presente che poi viene assolutizzato e sacralizzato serve anche al sistema per poter manipolare meglio le masse perché pensando al fenomeno alcance al calcio nel momento in cui si riscrive il passato lo si è pura lo si è monda di tutti quei di quegli elementi che potrebbero stridere con questo presente sacralizzato automaticamente sia anche il dominio soltanto sul presente ma anche sul sul futuro e soprattutto sia il dominio solamente delle persone nel senso che le si finisce per possedere le si possiede alla fine si possiede la loro immagine della realtà si determina quale deve essere la loro immagine della realtà ora il fenomeno questo fenomeno di riduzione al presente dell'attenzione pubblica io penso che sia in parte stato un fenomeno naturale proprio insito nel tipo di sviluppo che c'è stato nel mondo nel mondo occidentale ma chiaramente poi una volta colto il processo i grandi sociologi militari che evidentemente albergano in qualche pentagono a caso probabilmente devono avere militarizzato il tutto per accentuarne per accentuarne appunto la sostanza perché proprio in una popolazione confinata nel presente che si possono progettare i futuri più distopici perché tanto nessuno li percepirà mai come reale non sono nel presente quindi non esistono e le lezioni del passato che potrebbero fornirci ragguagli su quello che ci attende devono venire dimenticate e soprattutto devono venire considerati i reali ecco le si può anche ricordare ma sotto forma di quadretto irreale i famosi giorni della memoria è un rito di ricordare degli orrori che però devono essere inseriti in una cornice di in realtà così che non per caso non non si finisca per usarli per riconoscere gli stessi tipi di orrori quando si verificassero oggi siamo finiti a censurare le opere di shakespeare di mark twain di roald dal pure gli aristogatti arriviamo fino a mary poppys notizie proprio di questi giorni ci troviamo forse di fronte a un grande rituale di esorcismo collettivo si avrei detto bene se effettivamente sono esorcismi collettivi non servono a niente cioè quindi sono esorcismi perché sono collettivi a qualcosa per qualche ragione vengono usati si esorcizza essenzialmente il timore che esistano punti di vista diverse da quelli presenti ogni volta perché adesso hai citato mary poppins non è stato vietato i bambini però lo devono guardare con un adulto ecco nel senso che gli deve spiegare che una certa parola che nessuno sa cosa voglia dire originariamente voleva dire una cosa che aveva dei significati razzisti nota bene che si tratta di parole fuori dall'uso comune soprattutto per i bambini quindi però ancora peggio è quando si vengono si si editano i libri antichi i libri di shakespeare si tolgono le parole da shakespeare si si modificano si in prospettiva si riscrive completamente tutto per adeguarlo ai agli effimeri standard del presente perché poi visto che il presente poi è liquido e fluido si modifica costantemente in direzioni caotiche cambiando le mode di anno in anno per cui quello che in questo momento è assoluto e sacro e degno del diciamo del dell'attenzione del rispetto di tutti fra un anno magari smette di essere di moda perché si cambierà di nuovo versione quindi improvvisamente tutto quello che oggi è evangelo domani sarà parole del demonio eccono quindi non se ne esce 30 anni fa tu hai scritto un racconto che era la parodia del politicamente corretto e oggi possiamo dire che il politicamente corretto soprattutto walk e la cancel culture sono una parodia del tuo racconto e come questo accadere alla fine in così pochi anni una manciata di anni che venisse intrapresa questa nuova forma di inquisizione di lotta anche dogmatica partendo dall'inclusività e magari anche da 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 principi da propositi che potevano essere anche positivi ma qualcosa vagamente ci è sfuggito in mano qualcosa è andato storto come dice un celebre meme no che gira mostrandoci le foto di come era il mondo allora come oggi e beh sì dice erasmo da rotterdam aveva detto che la storia dell'essere umano è la storia della follia io quando l'ho lessi la prima volta non capivo bene che cosa intendesse dire adesso lo capisco bene se guardiamo indietro nella storia vediamo che ogni epoca ha i suoi momenti di follia estrema tale che oggi col senno di poi a guardarla non riusciamo a comprendere come fossero avvenute certe cose adesso riviviamo lo stesso tipo di follia e cambia la forma ma le follie sono della stessa intensità sono altre folie ma della stessa intensità il tabù e il tabù cambia l'oggetto del tabù ma non cambia la struttura del comportamento del tabù così come non cambia la struttura del comportamento del sacro diciamo che magari si applica a categorie una volta impensabili magari anche solo impensabili l'anno scorso ecco quindi il fatto è che poi per chi riuscisse a mantenere il cervello lucido di fronte a queste manifestazioni di follia fa una bella differenza vedere la gente impazzita intorno a te piuttosto che leggerla impazzita nei libri di storia nei secoli scorsi quando leggemo quando leggiamo i diavoli di ludon di axley tanto per non menzionare sempre solo il mondo nuovo e racconta dei fenomeni di possessioni diaboliche e di isteria collettiva nei conventi del sud della francia neanche tanto tempo fa ecco noi osserviamo increduli la follia che riuscì a impossessarsi di interi strati di popolazione come detto neanche troppo tempo fa ebbene oggi nello stesso tipo di di follia sotto altra forma mutatis mutatis ce lo ritroviamo appunto nella farneticazione della cancel culture no che quindi che è una come detto un una un potenziamento appunto del politicamente corretto e tu stai citavi proprio questi fenomeni di isteria collettiva qua non ci ritroviamo di nuovo di fronte l'ennesima caccia alle streghe una nuova forma di di maccartismo dove l'aderenza dogmatica il principio di di purezza ha portato appunto queste derive anche psicotiche ma il problema di fondo e la storia ce lo dovrebbe insegnare che quando poi si prende come punto di riferimento la purezza nessuno è mai abbastanza puro cioè l'abbiamo visto con la rivoluzione francese diventata terrore con la caccia alle streghe ben molto prima col maccartismo tutto il resto quindi alla fine chi si salverà oppure finiremo come il titolo del tuo contributo che la cancel calc la cancel culture finirà pure per cancellare se stessa beh ma questa è la grande lezione di anna arend che scrisse i libri sul totalitarismo e che propria l'età del male tutto ciò che gli epifenomeni connessi il tema proprio annaren disse che la cannes che appunto il il totalitarismo finisce poi per cancellare se stesso finisce per auto divorarsi e questo è quello che succederà anche alla cancel calcio purtroppo non sarà un bello spettacolo perché di solito sono sempre procedimenti tragici questi qui e il fatto di riconoscere i primi e denunciarli siamo si spera sempre che possa fermare appunto alla discesa nel baratro della follia purtroppo però quelli che ne sono preda continuano tra l'altro ho anche degli amici che sono preda di questo tipo di farneticazioni dall'interno della follia però la follia raramente vede se stessa come folla perché c'è sempre una sua razionalità e però come detto hai detto tu appunto aderenza dogmatica perché comunque ci sono delle sorte di verità rivelate che non possono venir messe discusse poi non impara dalla storia il predetto si imparassimo della storia però come abbiamo detto noi viviamo nel presente presente sacralizzato significa non guardare al passato se non per demonizzarlo qualora fosse diverso dal presente quindi cosa vuol dire non guardare al passato significa rifiutarsi a priori proprio programmaticamente di imparare qualcosa dal passato quindi questo è il bel quadretto delle cose io appunto come hai citato prima scrissi un racconto di fantascienza satirica 30 anni fa sull'argomento che poi adesso è raccolto nel mio libro extra l'andia che raccoglie tutte le mie opere brevi di quell'epoca di fantascienza e all'epoca era molto scandaloso come racconto che basava sul fatto che sulla mia osservazione del fatto che il politicamente corretto che all'epoca era ancora abbastanza giovane creava con la sua volontà diciamo con la sua intenzione buona intenzione di cancellare gli insulti cancellare le ingiustizie appunto dei comportamenti insultanti verso verso le persone in realtà finisce per moltiplicare la quantità di insulti disponibili perché il problema vero alla radice di tutta la situazione è che l'insulto il vero insulto sta non tanto nella parola quindi nel nella parola insultante quanto nell'intenzione di insultare una parola considerata insulto può essere detta sim con simpatia e scherzo oppure si può dire una parola buona pulita vergine con intunzione di insultare quindi quello che conta veramente è l'intenzione ma non potendo unire l'intenzione è difficile vietare l'intenzione a questo punto si cerca di vietare il sintomo dell'intenzione che alla parola l'insulto solo che vietando l'insulto l'intenzione rimane e si sposta su una parola attigua e si sceglie una una parola handicappato adesso è considerata praticamente un insulto all'epoca era la parola nobile che serviva per evitare e dire di dire che una persona per esempio era paralitico paralitico era una parola neutra che definiva una condizione di una persona affetta da paralisi è diventato un insulto nell'intenzione malevole di chi volesse insultare appunto chi avesse questa sfortuna tolta la possibilità di usare legittimamente questa espressione si è usata una parola bella nobile handicappato che è diventata essa stessa insulto perché l'intenzione purtroppo nelle persone che sono di livello così basso da appunto insultare il prossimo è rimasta e allora si trasferisce li allora si arriva affetto dandica poi ti rilevare ai diversamente abili diversamente intelligente diversamente sobrio vabbè adesso sto un pochettino facendolo fuori dal bulacco comunque ci siamo capiti gli stessi le stesse battute che poi si fanno appunto su diversamente bello il diversamente intelligente nascono dalla nascono nella popolazione con ancora dei barlumi di sanità mentale come reazione all'assurdo a cui si è giunti nel continuare a spostare il discorso da un vocabolo all'altro nella presunzione di eliminare gli insulti in realtà poi finendo per moltiplicarli all'epoca come dissi era il tema del mio racconto adesso purtroppo la realtà sembra una parodia del mio racconto quindi comunque c'è sempre il tentativo di aggirare anche questi vocaboli che vengono creati ad hoc quando se ne mandano tanti altri in soffitta pertanto possiamo dire che anche la neolingua politicamente corretta che sicuramente una lingua burocratica artefatta e anche questa è destinata al fallimento perché tanto si troveranno sempre nuovi vocaboli o comunque nuove tecniche per aggirare la neolingua si si troveranno sempre le elezioni dei totalitarismi del passato ce lo confermano la stessa anna renda la cito di nuovo aveva detto che quando si si trova in un totalitarismo bisogna credo che fosse anna rend a meno che non fosse qualche dissidente sovietico comunque era uno di quelli diciamo noti che si occupò del tema che quando si trova nella società oppressiva totalitaria bisogna l'intellettuale deve trovare forme alternative ellittiche no per esprimere quello che praticamente è ormai vietato esprimere quindi c'è sempre un modo di girare intorno alle cose adesso che per esempio sui social sui su youtube su facebook c'è una serie di nuove parole tabù che non si possono menzionare perché vanno a sgamare quelli che hanno combinato un po di pasticci negli ultimi anni in società quelle parole che ora noi accuratamente eviteremo di menzionare ormai sono state sostituite da una serie da una riga di eufemismi che permettono di comunicare perfettamente di che cosa si tratti a dispetto della neolingua quindi per fortuna l'ingegno umano riesce sempre a bypassare bypassare gli ostacoli questo è nell'aspetto positivo aspetto negativo è che purtroppo la malevolenza umana anch'essa riesce a bypassare le censure e quindi abbiamo il fenomeno di moltiplicazione degli insulti di cui dicevamo il problema è che dobbiamo accettare cioè il il fatto di questa cultura woke del della cancel capture di cancellare tutto ciò che in qualche modo non è in linea con quelli che sono considerati i valori contemporanei partono dal presupposto che si possa creare una società perfetta dove tutti sono buoni e nessuno insulti più nulla e tutti rispettino tutti questo però è un diciamo come detto un ideale di purezza assoluta come dicevi tu e nella storia non si è mai raggiunto e che di solito la via dell'inferno della strecata di buona intenzione produce la secca di buona intenzione conduce a dei a dei sistemi di oppressione terribili di solito ottengono il risultato posco che si propongono quindi quindi il dobbiamo accettare il fatto che non viviamo in una società perfetta che ci sono persone che purtroppo hanno delle dei brutti sentimenti e che gli esprimono e cercare di impedire alle persone di esprimere dei brutti sentimenti alla fine è impossibile perché quelle persone moltiplicheranno semplicemente le espressioni verbali con cui esprimere cattivi sentimenti quindi moltiplicheranno gli insulti ci vuole diciamo un approccio diverso idealmente di educazione diciamo a la convivenza civile ma altrimenti di accettazione della imperfezione dell'essere umano che altro perché poi appartiene ai totalitarismi il tentativo di estirpare le emozioni oltre che i sentimenti anche qualora queste fossero cattive perché un conto è cercare di educare le persone a essere civili tolleranti rispettose un altro invece puoi finire per patologizzare determinate attitudini se non addirittura il dissenso e anche criminalizzarle perché non c'è soltanto la cancellazione c'è anche poi la riscrittura del passato così come ovviamente del presente che portano anche a delle forme far sessiche parossistiche abbiamo ne abbiamo degli esempi eclatanti soprattutto nel mondo dello spettacolo nelle produzioni degli ultimi anni in particolare degli ultimi mesi su piattaforme come la disney o comunque come netflix che poi però dato che il troppo stroppia sono andate anche in crisi così come è andato in crisi è andato un po in tilt il cosiddetto capitalismo walk che sfrutta poi alla fine le tematiche legate all'inclusività e grandi anche società aziende che hanno sfruttato e strumentalizzato le tematiche walk per vendere una birra o un mascara poi si sono viste crollare le stesse vendite parliamo brevemente del rapporto tra l'industria hollywoodista e ogni tanto ci sono quei commenti ma perché parlate di hollywoodismo e non ovviamente facciamo riferimento all'opera libro di 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 roberto in questo in questo caso e al nostro format poi hollywood propaganda qual è il rapporto tra la macchina hollywoodista e luoc che è finito di nuovo anche qua per colonizzare o almeno tentare di colonizzare l'immaginario di tutti noi soprattutto delle nuove generazioni sono pappe ciccio sono praticamente ormai un tutt'uno c'è una convergenza una convergenza di di intenti assoluta che dà la dimensione tra l'altro dello stato totalitario perché proprio quando anche l'interesse privato si piega l'ideologia che hai diciamo i totalitarismi che poi a parole condanniamo tutti si noti che come hai menzionato tutto questi qui vanno anche a perdere dei soldi con questo tipo di comportamenti ci sono state appunto importanti indagini di mercato che hanno stabilito che la maggior parte della gente ne ha abbastanza di vedere di prodotti netflix dove ogni dieci minuti deve assistere a rapporti omosessuali come se fossero la metà di tutti i rapporti nel mondo diciamo esterno al mondo reale c'è una sovra esposizione appunto di aspetti che per il momento tendono essere abbastanza secondaria in società adesso senza entrare nei titoli di merito se è giusto o sbagliato avere quei comportamenti è che semplicemente sono quadri non realistici dalla realtà che vengono proposti come normali nella ficzione e questo crea un comunque un problema commerciale appunto queste piattaforme che vedono appunto i loro clienti diminuire se esagerano con questo tipo di esposizione se esagerano con per esempio fare dei personaggi storici di un colore di un'etnia diversa da quella che storicamente ebbero adesso si è coperta di ridicolo anche l'intelligenza artificiale di google no mi sembra che si chiama gemini ma mi sembra a gemini no james james hanno terra per la loro grande intelligenza artificiale, siamo intelligenti, adesso ce la giochiamo con ChatGPT eccetera e se non che il problema è che a chiedere a questa intelligenza artificiale di rappresentare visivamente come immagini grafiche i padri fondatori degli Stati Uniti, li ha fatti di colore che all'epoca non è che fossero molto aperti e inclusivi nei confronti appunto di quelli che avevano importato come schiavi e dicevo quindi poi hanno fatto vedere i fondatori i fondatori stessi di Google li hanno rappresentati come degli asiatici, cioè c'è tutta una serie di falsi storici per aderire evidentemente a un bias, quindi a un errore programmatico nella programmazione dell'intelligenza artificiale che imponeva dei dei decreti woke appunto di cosiddetta inclusività che poi però visto che l'intelligenza artificiale avrebbe dovuto replicare la realtà non educare le persone ad un'ideologia hanno prodotto questi inaspettati risultati grotteschi farseschi gli hanno riso dietro tutti hanno dovuto interrompere il programma e hanno dovuto e peraltro hanno detto che ci vorranno molti mesi per aggiustarlo quindi immaginate a che profondità erano riusciti a programmare l'errore sistematico nel loro sistema di elaborazione della realtà purché l'errore fosse diciamo nella direzione ideologica dei sia auspicata beh perché magari questa Gemini si è addestrata sulle produzioni Netflix dove Achille ti diventa nero come Anna Bolena Mozart giapponese e quindi è normale poi che abbia tentato di rispettare gli standard con cui è stata addestrata noi adesso ci ridiamo su però effettivamente arrivi a un tale livello grado di farsesco di grottesco di surreale che è difficile anche rimanere seri per fortuna almeno abbiamo almeno la libertà di non rimanere seri di fronte a quello che serio non è sì perché noi adesso abbiamo discusso l'aspetto grafico perché il colore dell'epidermide è facilmente riconoscibile però questa programmazione woke dell'intelligenza artificiale e in generale comunque di contaminazione di tutte le opere hollywoodiste appunto delle grandi piattaforme americane di produzione di fiction va molto al di là appunto del colore dell'epidermi che appunto coinvolge tutti gli aspetti della vita e dei modi di vita dei valori di vita della visione della realtà che è quella che io poi ho chiamato hollywoodismo quindi un sistema ideologico complessivo di appunto valori e regole e proprio di visioni della realtà ecco diciamo questo intero sistema viene di fatto installato nella società dal grande sistema mediatico appunto hollywoodista milioni di ore di audiovisivi di cinema eccetera tutto questo l'abbiamo discusso in altre discussioni specifiche proprio sul mio libro appunto il fondamentalismo hollywoodista però questo era per diciamo rispondere alla tua domanda che c'è un nesso molto molto intenso di appunto di alimentazione di questo di questo zeitgeist da parte del cinema americano si noti bene che una parte di mondo comunque probabilmente si svicolerà da questo lavaggio del cervello perché il momento unipolare americano sta un pochettino dissolvendo allora vedremo se effettivamente come nel titolo il tuo contributo la cancel culture cancellerà se stessa e non sarà un buono spettacolo grazie Roberto per essere stato con me grazie a te Enrica un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito anche perché è disponibile ormai da febbraio l'abbonamento per il nostro mensile visione un altro sguardo sul mondo oggi vi abbiamo presentato il contributo l'articolo di Roberto Quaglia per il numero di marzo parole avvelenate un numero dedicato come sapete il nostro mensile monotematico ogni mese sviluppiamo un singolo argomento il numero di marzo è focalizzato sulle derive del politicamente corretto dell'ideologia woke e della cancel culture che da cultura della cancellazione è diventata una vera e propria cancellazione della cultura quindi si esaminano questi tre aspetti in maniera assolutamente trasversale con molti intellettuali storici giornalisti artisti e scrittori e come anticipavo da febbraio è disponibile il nostro abbonamento quindi potete sottoscrivere l'abbonamento per ricevere con le spese di spredizione gratuite il nostro mensile bisogna un altro sguardo sul mondo potete andare sul sito www.visioneditore.it per sottoscrivere l'abbonamento per comprare le copie che non siete ancora riusciti ad acquistare ovviamente a leggere e vi ricordo anche che questo è un modo per sostenere le informazioni libere indipendenti il lavoro che facciamo qua su visione tv e ovviamente su visione editore per chi volesse c'è anche la forma della donazione quindi basta andare sul sito di visionetv.it per sottoscrivere la vostra donazione scegliere ovviamente la modalità che preferite grazie a tutti per essere stati con me e con Roberto Quaglia alla scoperta del contributo di Roberto la cancel culture cancellerà se stessa ma non sarà un buono spettacolo grazie a tutti e ci rivediamo sempre qua su visione tv con le prossime interviste e le prossime puntate grazie a tutti Grazie a tutti